ciao a tutti oggi preparerò il dado insieme a voi allora ho inserito nel boccale il minestrone perché altrimenti vi serviranno se avrete a casa tutte le verdure come il pomodoro le zucchine le carote e quant'altro poi ho aggiunto uno spicchio d'aglio erbe aromatiche all'oro salvia rosmarino del sale grosso poi occorrerà vino e olio azionate il bimbi 10 secondi velocità 10 otterrete questa specie di pappetta azionate il bimbi 20 minuti varoma velocità 2 e sopra non mettiamo il classico tappo ma un foglio di scotter ho preso il mio dado e l'ho messo in una teglia in silicone come potete vedere quindi porto a microonde 650 watt per 10 minuti dovrete ottenere questa consistenza io li ho fatti cuocere invece di 10 minuti perché ho notato comunque che era umido li ho cotti per 30 minuti e ogni tanto aprivo il microonde e rimestavo il tutto mettiamo il tutto nel boccale quindi azioniamo a velocità 10 10 secondi ed ecco il mio dado pronto a a a a a a